Sindaco, le primarie dal punto di vista della partecipazione sono state un successo, dal suo punto di vista anche per il risultato? Sì, sono contento del risultato, cioè di questa netta vittoria di Bersani perché consente adesso di fare la vera battaglia, quella per il governo del Paese. Questa è la battaglia difficile che bisognerà alla fine vincere. Come ha giudicato il discorso di Bersani, questa apertura a vendola, ma non ancora alle alleanze che dovranno essere messe in campo? Allora, intanto l'apertura a vendola è nelle cose perché è partecipato anche lui alle elezioni, invece molto più importante è il discorso di un'apertura ulteriore. Io penso che la situazione che abbiamo di fronte, come ha raccontato Bersani con grande chiarezza, è molto difficile. E che le decisioni che bisognerà prendere saranno decisioni spesso davvero difficili, anche sotto il profilo dei sacrifici da fare da parte dei cittadini. E per farle occorre una base larga. Se noi vincessimo le elezioni, mettiamo col 40%, che diventa il 50% per il meccanismo elettorale, su un 60% di persone che andate a votare, non avremo il consenso vero del Paese. E allora bisogna allargare più che si può. Da questo punto di vista è importante anche mantenere un buon rapporto e penso ci sarà con Renzi, conquistarlo a questa battaglia fino in fondo. Secondo lei questa è una sua battaglia, che era un po' antitetica per tanti versi, a quella di Bersani, finisce qui o continuerà? Che cerchi di continuare a porsi come leader di una parte del Partito Democratico per conquistare consensi, eccetera, per avere un ruolo, non solo mi disturba, ma mi fa piacere perché allarga il consenso del Partito Democratico. Vorrei che lo facessi in squadra e penso che lo farai in squadra. Per quanto riguarda invece il Veneto, la Puppato si è ritirata in buon ordine, però ha dato una buona mano anche a Bersani. Anche lei ha portato delle istanze nuove che probabilmente verranno recepite. Allora, la Puppato aveva due caratteristiche in questo confronto, positive. La prima donna, che poi ha sottolineato con forza tutta la parte, diciamo così, ambientalista delle politiche oggi di progresso. Penso che sia una bella risorsa da utilizzare.